Non mi sembrano per nulla casi isolati, mi sembra una fotografia significativa di quello che è accaduto alle primarie, molto simile questa fotografia a ciò che accadde cinque anni fa, quindi evidentemente una parte significativa di quel ceto politico è rimasto intatto e quindi la stessa valente che è la nostra valente avversaria politica alla prossima campagna elettorale è il prodotto anche di quello, a me quei video sono ricordati un po' i video che mi davano la polizia e i carabinieri quando facevano le attività di video sulle piazze di spaccio, ovviamente con la debita differenza tra una piazza di spaccio. Quello che abbiamo visto sui video di fanpage, almeno personalmente, mi ha fatto tenere il volto a stomaco e il ricorso che è stato così frettolosamente rigettato al PD di Bassolino mi lascia perplesso, per cui credo che Bassolino ha il diritto di fare quello che vuole fare, insomma tutto sommato se pensa di fare questo va davanti per la sua strada, però quello che succede all'interno dei partiti, continuo a dire che mi interessa poco, guardo le mie liste civiche, guardo le mie persone che non hanno niente di politica ma invece sono arrabbiate come sono arrabbiato io perché questi continuano a parlare del nulla e la città lo sbando.